Salve a tutti da Chiara Tamburini per Rassegna Megarese. Siamo con Angelo Alessandrini e Nuccio Garilli, protagonisti della mostra di pittura 6, che si terrà ad Augusta in via Roma 53, dal 20 al 22 dicembre, tutti i giorni appunto dalle ore 18 alle ore 21. Angelo, da dove nasce l'idea della mostra e qual è il tema affrontato? La mostra nasce da un'idea mia e di Nuccio di fare qualcosa per la città di Augusta, qualcosa di importante a livello artistico, che non è la solita mostra di paesaggi o di nature morte, ma appunto portare ad Augusta l'arte contemporanea, con tematiche abbastanza inusuali per la città di Augusta, soprattutto a livello contemporaneo, cioè di arte contemporanea. La mostra si intitola 6 e prende il nome dal numero delle opere che saranno presenti all'esposizione. Tutto verte sul numero 3 e sui multipli di 3. Le opere sono 3 per artista, le misure dei quadri sono 90 per 90, e quindi la somma è il 6 e un altro multiplo di 3. Bene, adesso chiediamo a Nuccio qualche dettaglio in più da un punto di vista tecnico, artistico, sulla mostra. Cosa puoi aggiungere, cosa puoi dirci? Da un punto di vista tecnico, cosa potrei dire? Potrei dire poco da un punto di vista tecnico. È stato, come diceva Angelo, un assemblaggio di idee che si sono maturate nell'arco all'incirca di un anno. Vedendo Angelo, una volta gli chiesi di fare una mostra. Poi abbiamo pensato, vista la situazione augustana, che è abbastanza morta, e forse penso anche da un punto di vista di Angelo, cercare di smuovere le anime delle persone, della gente, e quindi affrontare una tematica particolare, quella sacra. Quella sacra però con una piccola sorpresa che solo chi verrà alla mostra potrà godere di questa novità. Per noi novità, novità intesa per l'ambiente augustano, però non novità perché esiste gente che fa arte simile. Noi abbiamo cercato di farla personale, di renderla personale con le nostre mani, Angelo con i suoi colori, io con il mio modo di dipingere. Per cui speriamo, ci auguriamo a questa mostra sia soltanto un momento di riflessione per tutti quelli che hanno una religione, che credono in una religione fermamente, che non si mettono in discussione. Questo è un voler fare mettere in discussione non solo le religioni, ma anche la persona sulle cose che crede. Parliamo anche dei media, parliamo di quello che si legge, si parla in giro. Quindi abbiamo affrontato questo tema non solo per parlare del sacro, dire questo è sbagliato, questo è giusto, non ci interessa questo. Ci interessa far riflettere. Deve essere uno specchio per chi viene a vedere la mostra. Questo è tutto. Bene, grazie. Ricordiamo che la mostra è realizzata dall'Associazione Culturale 4 Terzi in collaborazione con ICOB e si terrà appunto dal 20 al 22 dicembre dalle ore 18 alle ore 21 presso la sede di Via Roma 53. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993 e se faccio la domanda che si accendia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.